Parliamo di sanità biellese, o meglio, volerne parlare è il sindacato CGL di Biella per lamentare una serie di problemi. Ne parliamo con il segretario generale Lorenzo Boffa, la referente sanità Cristina Martiner. Allora, qual è il problema? Il problema è che noi ci stiamo avviando verso il terzo anno della pandemia e dobbiamo dire la verità, abbiamo registrato in questa quarta ondata i problemi che abbiamo già registrato fin dall'inizio. E cioè si tende a interpretare il Covid come un'emergenza, non siamo usciti dalla fase emergenziale e quindi le soluzioni che vengono messe in campo sono soluzioni emergenziali che però mettono a rischio il sistema sanitario. Mi spiego, non può essere che a tre anni dall'inizio della pandemia noi ogni volta che ci hanno ondata andiamo a chiudere l'intero ospedale o alcuni reparti dell'ospedale. Perché questo significa non gestire più tutte quelle che sono le malattie cosiddette ordinarie, per cui le liste d'attesa si vanno a ingrossare e abbiamo veramente grossi ritardi. Non ci basta neanche sentirci dire che vengono gestite le emergenze perché il concetto di emergenza è un concetto molto vago. Facciamo un esempio anche lavorativo, ma un lavoratore con un'ernia che fa un lavoro di fatica, è evidente che se gli viene rimandata l'intervento all'ernia, quel lavoratore rischia magari di perdere posti di lavoro perché supera il periodo di comporto previsto dal contratto nazionale. O pensiamo a una persona anziana in attesa di cattarata, è evidente che la sua qualità della vita è molto danneggiata da questi ritardi. Ma voi avete in qualità di sindacato magari ricevuto delle sollecitazioni, ci sono dei vostri associati che lamentano dei problemi, il personale, delle persone, degli assistiti? Sicuramente il personale lamenta grandissima stanchezza, stanchezza fisica, stanchezza psichica perché appunto continuano a gestire tutte queste emergenze che dicevamo. E poi abbiamo segnalazioni di liste d'attesa particolarmente lunghe di persone che ahimè stanno intaccando i propri risparmi per farsi curare strutture private. Ecco, per quanto riguarda il personale, quindi voi avete avuto degli incontri, qual è il clima, qual è la situazione? Ma allora il personale è molto stanco perché si ritrova a coprire delle assenze che si sono verificate in quanto diversi lavoratori si sono contagiati, anche loro, per cui ci sono queste assenze improvvise che devono essere coperte. Quindi è personale stanco, sfiduciato, personale che viene utilizzato a fisarmonica, nel senso che da un giorno all'altro viene trasferito per esempio dagli ambulatori a dei reparti covid oppure ai centri vaccinali. Quindi c'è veramente molto molto stress. Noi abbiamo chiesto all'ASL di fare una programmazione sulle assunzioni e di prevedere per esempio la proroga dei tempi determinati. Ci sono 135 lavoratori a tempo determinato in ASL assunti per l'emergenza covid, che scadeva il contratto al 31 dicembre del 2021. Noi abbiamo chiesto un rinnovo di un anno, così come aveva anche disposto una delibera della regione e invece li hanno prorogati solo fino al 30 giugno. Questo secondo noi non è un segnale positivo perché si rincorre l'emergenza, non si fa una programmazione.